Oggi nonno giochiamo alla modalità del pazzo malato di M Somma guarda adesso Sì ti faccio fuori due secondi Sì sì io sono il pazzo Sono già mezzo morto io Lo so questo è un bastone super potente che quando ti entra chissà dove Chissà dove ti entra Eh caro nonno Poi dopo fa male Eh però tu stai scappando Eh sì tanto Sì lo so sto scappando Mi stai facendo troppo danno mannaggia Eh lo so è proprio questo lo scopo del pazzo Dovrebbe farti danno Dovrebbe farti Oddio due cuorie Ok ho vinto ovviamente perché sono molto bravo Adesso invece cercherò di resping Davvero no è impossibile Eh scusa stai parlando basso No sei deficiente se parli basso eh Parlo alto parlo alto Ok molto bene molto bene Se parli alto allora siamo amici Se parli basso invece non siamo più amici Lo sai che funziona così nella vita dopo tutto Eh sì eh sì Allora no solo su youtube funziona così mi spiace Eh allora dove sei finito tu perché Non lo so mi sono un po' perso Allora tippati forza perché mi sa che qua abbiamo gli spawn straccicati Che non so cosa voglia dire Comunque possiamo anche andare giù sotto eh se voglio Giù sotto grazie Ah figlio di una Eccolo è Che bastia No Adesso Adesso mi spieghi come salgo io Come salgo Eh Magia No Ci ho suicidato Sì Dai che deficiente Un punto per me Eh per Mai Allora tippi nonno volante prima di tutto E poi No Vabbè adesso ti devo uccidere io Ti devo uccidere io No no aia 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 tu muore Comunque io non ho spazio per la scrivania Ma sì ma tu muori in due secondi Cioè Adesso tippati forza Mi tippo Stai parlando basso per caso? No Ah ma Cioè forse Ti devi Scusa No 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 Per favore non mi uccidere di nuovo Non mi uccidere di nuovo Aia Allora scusami A parte che io devo usarlo per proteggermi Non per ammazzarti però Hai ragione Hai ragione Vabbè però mi stavi proprio sulle palle quando parli basso Cioè proprio Scusa Ma perché è una cosa istintiva mia capito? Cioè nel senso Se una persona parla basso di solito È perché Non lo so in realtà perché ma Cioè nel senso non si deve proprio permettere Tipo tu adesso nonno Raccontami qualcosa che ti è successo oggi Eh cosa mi è successo? Ho visto un duni selvatico E lo sto per buttare giù E invece E invece E invece Aiuto No No aiuto No ma io dovrei colpirti Aspetta Aia Ma mi sputi via Certo che ti sputo vai schifo Traiardo Traiardo No no Mannaggia Vinto Ma sei mutato Penso che fosse mutato Ho vinto io comunque Aia Però dai Ma che paura Non vale Cioè non vale quello che ho fatto io comunque Dovresti Perché no? È perché devi uccidermi tu Cioè allora nel senso Anche se io ti ho ucciso Il tuo round non finisce finché non mi ammazzi Quindi dovrei cercare di ammazzarmi No Scusa hai parlato Ma hai parlato di nuovo basso Ma sei deficiente? Cioè Ma la deficienza Scusa Scusa Cioè non mi sembra complicato comunque mantenere la concentrazione Invece che concentrarti sul gioco nonno Concentrarti sul parlare Che forse è più importante Ma Come ti permetti di usare quello stick Ho sbagliato Ho sbagliato Oh ma oggi sei proprio un disastro eh Sì abbastanza Scusa No vabbè dai Hai fatto bene a concentrarti però sul parlare Piuttosto che sul gioco Eh non so fare due cose contemporaneamente È normale all'inizio Soprattutto è normale che non sai fare due cose contemporaneamente Piuttosto Cos'è stata quella? No Oh non mi uccidere E invece Dai Fa paurissimo No è bruttissimo Ma davvero Sì Ma infatti stai facendo versi un po' strani eh Cioè Non vorrei dire Io immagino Ah ancora Ora che li butto di nuovo eh Tipo Eh Per favore aiuta Si chiama il mago No non il mago Il dio Rumbastro Rumbastro Eccolo qua Oh grazie signor dio Rumbastro Che ci ha Ci ha fatto questo dono particolare Della chiaroveggenza No Perché la chiaroveggenza Vieni qua Vieni qua Vieni qua piccolo dunis Dai oh ma Allora scusa dai Allora forza ammazzami Che voglio fare il pazzo Cioè nel senso Ho sbagliato Forza dai vediamo Quanta vita hai ancora Eh vediamo Oh che bello Mi hai ucciso Oh ti sono fortissimo Quanto sei scarso mamma mia Sì è proprio scarsissimo Guarda Adesso sono io Il pazzo malato di mente Che c'è quella di uccidersi Oh 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 Sono già morto io No se sei già morto Ma perché sta laggando No io odio male Minecraft Cioè no scherzo è bellissimo Cioè nel senso Stavo scherzando Mi dissocio da ciò che ho detto Anche io Anche io Mi piace molto Minecraft Minecraft è il gioco più bello del mondo Più o meno Insomma a volte No Ma sei deficiente Ma ti sei suicidato No ma Non l'ho fatto volontariamente No perché Quasi istintivamente Eh certo Ti 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 Non lo so Ma poi Ti stai parlando a bassa voce di nuovo No Forse Non lo so in realtà Non mi sento Allora Oh ti ucciso Dobbiamo rifare un attimo il corso di parlare Perché a quanto pare non ci siamo capiti Allora Quando io non parlo Non lo devi parlare tu Giusto? Oh mi sto sbagliando Ok perfetto Hai ragione E quando tu Cioè insomma Quando parli Dovresti parlare a voce alta Non stiamo combattendo Quando parli Dovresti parlare a voce alta Oh mi sbaglio Sì hai ragione Dovrei parlare a voce alta E quando io Allora prima di tutto Non stai parlando a bassa Ad alta voce abbastanza Quindi dovresti alzare un attimo la voce Quindi alza la voce Ecco sto facendo cose Adesso mi senti un po' meglio No no Scusa 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 Adesso 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 va bene dai Quindi posso tornare ad ucciderti Ah che bello No no vale Sì che vale Grullo Com'è che mi hai chiamato grullo? Grullo Questo è un motivo in più per ucciderti comunque Cioè come No Scusa Avete sentito Non è un insulto Non è un insulto Sì 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 È un insulto bello e buono Cioè se voi mi scrivete adesso Grullo Aspetta Ecco Sto facendo danno? No veramente no Mi stai togliendo un niente Però Oh come ti permetti di Darmi tutte tutte botte in testa Tutte tutte in testa Mi stanno arrivando Cioè proprio fanno male Cioè si sente proprio Si sente proprio la testa Immagino Tipo il mio Vieni qua caro No vai Allora Ah Adesso che ha guardo il bastone Com'è bello Mamma mia Vieni qua caro Tunis Vieni Tutto lì Scusa No 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 Mi sto inquietando molto Comunque non è Vieni qua No Dai no Hacker No Hacker Usi cheat Beh sì certo Uso cheat No questa cosa comunque mi ha molto spaventato E devo dire che mi sto Vabbè ok Forza adesso sono io Quello che deve scappare Anche perché Ok Scusa Scusa Comunque tu eri prima quello che doveva No Vabbè niente Non siamo Cosa sto dicendo Ci siamo un po' incasinati Sì infatti Cioè vabbè ok Va bene Cioè io ero il pazzo comunque prima Tu stavi facendo il pazzo Per davvero Adesso ti Adesso ti devo inseguire però Esatto No Credo Sì 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 Mi devi inseguire Sì Adesso ti prendo Ti uccido No ti voglio molto bene Tieni qua Un bastone Mamma mia Allora mi sto preoccupando Ragazzi scrivete Nonno pervertito In chat In chat Sì in chat Pure io Ma cosa sono su twitch adesso Scrivete Nonno pervertito In Avete capito no Nei commenti di youtube Bello Youtube bello Perché youtube è bello Oh ma quando muori Dai no Non mi vale Stupido E la mia risata malvagia Ragazzi Adesso diventa una bestia Hai abbassato la voce Ma lui Non è vero Sai che diventa una bestia adesso Forse No Scusa Scusa Non diventare una bestia Stai anche contestando ciò che io ho detto per caso Hai ragione No no Ma assolutamente Io Io No La deficienza di questo nonnino è proprio pari a 30 miliardi Cioè Nel senso Eh sì No Mi stai uccidendo però Aiuto Ma come faccio ad ucciderti dai impossibile Mi stai sbalzando via Sto sbattendo la testa in quella Sai che fa male In quella Cos'è in quella La testa La testa Mi stai facendo sbattere la testa Ah Proprio capito quello che stai dicendo Sì sì La testa Poi tu ti stai Mannaggia Devo proprio Eh che pizza Vieni qua Eh sì Vengo come no No io me ne scappo sull'albero Aiuto Eh no Oh sei morto Mi hai ucciso schifoso Oh oh Scorso Ma vai a cagare Allora Adesso sono io il Il pazzo Vediamo Ok Siamo a otto minuti del video Molto bello comunque Da fare questa Manns Cosa stai Scusa nonno Che stai Cioè che versi stai facendo No niente niente Non era nessun verso strano No no Io ho sentito un tipo Un manz tipo Eh un manz Ah sì È il mio urlo di guerra Di battaglia Ma che cazzo Ma raga Scusate raga Cioè nel senso Ma sto qua Oggi si è fumato qualcosa Secondo me No 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 Non si dice forse Non lo so No sto male dai E sei morto ovviamente Perché quando mai Però è Chiama il manco Però questa volta di più Chiama Dio insomma Chiama Ok chiamo il Dio Aiutaci per favore Uga uga Facciamo la danza Della pioggia ragazzi Ok perfetto L'abbiamo fatta Eccomi qua Ok molto bene Ciao Adesso devo No Devi comunque uccidermi Esatto Devi comunque uccidermi No cosa fai Guardi cosa sto facendo Dai non sto capendo più niente Devo ucciderti io Ok perfetto Te devi schizzare via Va bene va bene Cioè cosa Che brutta cosa che hai detto No no Dai Vabbè basta Brutta persona Eh sì Brutta persona Ti meriti Ti meriti Vuoto Vieni qua Ah vuoi Figli di No Basta Basta Vedi è bruttissimo Che schifo Sì è bruttissimo Comunque hai ragione Questa modalità è proprio bella Adesso infatti Non dovrò per niente Ucciderti Perché adesso Non mi devo Cosa che verso hai fatto Scusa Era un mu Era un mu Di una mucca Ho imitato una mucca Cioè sei diventato una mucca Nel frattempo Sì sì ma oggi Proprio sono Sono Mamma mia E chi è il bue Che ti accompagna Non te Vabbè Gli asciam perdere Insomma non c'è niente di male Nel diventare una mucca Che Ma allora io adesso Ti devo uccidere Giusto Sì hai ragione Hai ragione Sì 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 Ok per poi Tra iardo Tra iardo Tra iardo No non è vero Ti devo uccidere io Eh no perché Eh io ho i 144 hertz Nonno quindi un po' Cosa ho detto Scusate ragazzi Non so nemmeno di cosa ho detto Era una cosa un po' strana Che ho appena detto Sì no infatti Secondo me era una Era la lingua derivante dal dio Quello là che abbiamo chiamato prima Comunque Sì sì Abbiamo Ti devo dire una cosa carissimo Puzzardo Sì Abbiamo finito Noi ragazzi È finito Ci vediamo al prossimo video No Lasciate like ovviamente Mi raccomando ricordatevi di lasciare like E di commentare Con quello che volete voi Tipo penna Scrivete penna Questa qua è una penna Come ben potete vedere E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao ragazzi Ciao ciao